buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il manuale esercizi con l'oscilloscopio autore paolo di leo editore libri sandit questo volume costa 8 euro 90 contenuti l'oscilloscopio digitale dso 138 generatore di forma d'onda primi passi analisi di quadripoli misura sugli alimentatori la sonda è un interessante manuale con tanti schemi tanti disegni tante fotografie è utile a chi vuole utilizzare in modo corretto e imparare utilizzare l'oscilloscopio grazie per l'attenzione e se volete iscrivetevi sul nostro canale grazie